io ho visto talmente una partita di merda stasera ma vaffa in culo milanisti del cazzo ma andate a lavorare merda cioè mi avete fatto talmente incazzata che mi sono rimesso a lavorare sono le 11 sto facendo la seconda mano alla porta questo dovrebbe fare diaz quel cane randaggio di diaz quello non è un giocatore quello è una merda è una merda ma che cazzo di scuola ho visto stasera io ma avete qua sono fatti ripiangere alexandro ma quell'altro lì come si chiama ternandes ma vada via il culo ma ternandes ma vai a cagare ma che partite di merda che ho visto mi sono incazzato mi metto a lavorare non ne posso più non ne posso più di vedere queste partite di merda i cartonetti che sono in finale di champions ma come cazzo si fa porca puttana andate a lavorare merda andate a lavorare venite qua vi do un rullo per ora in mano vi faccio lavorare come dei bastardi vi faccio lavorare ma pensa un po' pensa ma pensa un po' questa è la finale di champions ma pioli ma tu sei del mestiere pioli sei del mestiere ma ti rendi conto ma vi rendete conto che questo questo ha aspettato il novantesimo per fare il campo voi sei scemo sei ma questo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia fammi lavorare fammi lavorare io ho perso 90 minuti della mia vita per vedere due squadre di merda vabbè due l'inter e vabbè l'inter è di merda a prescindere perché mi sta sul cazzo ma il delusione fammi vittura la porta fammi vittura la porta fammi vittura che all'arma ma come si fa a presentarsi con messia si guarda da una rullata della porca puttana ma cazzo si fa e pioli lì che cazzo aspetta ma gli hanno detto a pioli che la partita non c'era un'altra partita per recuperare perché secondo me a un certo punto pensate questo vuole portare a casa non 0 a 0 così è una partita dopo guarda che sono due le partite andate al ritorno coglione ma che ma va a fare un culo ma tu vuoi rinnovare il cotta ma andate alla casa insieme alla lega a giocare a bristola stai due merda anche mamma mia vieni qua che devo fare la foto vieni 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 fatelo vedere il che la gente alle 11 di sera dopo una partita di merda per consolarsi fanno una mano alla porta dispo sa cosa c'è che per consolarmi io faccio la seconda mano alla porta così domani ne faccio solo un bafangulo due che mai detto di guardare quella partita di merda io non la voglio neanche guardare ho giocato pure la schedina ho perso pure andate a fare in culo merda basta 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 ma no score pioli vai con allegri vai a giocare a briscola tu allegri galeone e poi trovate un morto lo fate con morto il 3 7 vaffanculo ciao a tutti